Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Valdichiana e Chiusi. Sulla Fipili a causa di un incidente si sono formati 3 km di coda in aumento tra Ginestra, Fiorentina e Scandicci. Sulla A11 le aree di servizio di Peretola Norte in direzione Pisa e Serravalle Sud in direzione Firenze sono sprovviste di GPL per un guasto. Sulla Accordo Sena-Firenze è chiuso lo svincolo di Poggi Bonzi Sud in direzione Firenze per lavori. Chiudiamo con i treni ricordando che in corso è Luca Comics con treni speciali organizzati per raggiungere la manifestazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!